ti racconto una bellissima favola questo non è un video calcistico quando due anni e mezzo fa incominciai a parlare di pif c'era un personaggio assurdo che non guardava nemmeno i parenti che incominciò a farmi dissing siccome io poi non gli rispondevo lui incominciò ad andare sul personale quindi ero uno addirittura che trattava male i disabili che trattava male i bambini tutte robe da diffamazione tutta roba che a livello penale avrebbe potuto rovinarlo poi fui contattato dal padre che mi disse che era un ragazzo problematico e mi disse anche di guarda dagli una mano riaprigli il canale fallo per me per lui il canale youtube è tutto e io gli ho riaperto il canale siccome questo dissing poi a cosa portò portò la curiosità delle persone e portò a fargli avere qualche iscritto perché di calcio non capisce nulla non è empatico può fare solamente cabaret su youtube ma lo vedi da quello che ti sta raccontando su piffe io sono il primo sono stato il primo a dire che i sauditi arriveranno all'inter sono il primo a riconfermarlo ma questo è un personaggio che gioca che gioca sporco è un personaggio che mi diceva io trattavo male i bambini io ho due figli mettetemi nei miei panni io ho due fratelli uno è tifosissimo della fiorentina e va in curva fiesole un altro è tifosissimo del milan e va nella fossa dei leoni non ho problemi a dirvelo tutti e due seguono il canale mio dell'inter perché sono due appassionati di cancio soprattutto uno che a livello giovanile è arrivato più su di me ha giocato una squadra toscana di serie A mi disse ma chi cazzo è questo film da dove è uscito fuori questo qua due mesi fa è uscito fuori un audio io ho chiamato uno che è con lui perché lui mi aveva mi voleva incontrare al mare a Cecina che perché poi sarebbe andato in un villaggio turistico in Giamaica non so dove voglio incontrare Giuse io ovviamente declinai l'invito perché non avevo voglia di incontrare un personaggio del genere mi aveva invitato in live per fare dissing per fare dissing al giapponese che ora gli chiede scusa gli dice iscrivetevi al canale giapponese e questo è il personaggio perché lui comincia come leccaculo del giapponese poi ti fa dissing per due anni e poi ritorna a dire iscrivetevi al canale giapponese ma non sto parlando del giapponese è solo per farti aprire che personaggio è nonostante che mi fu detto che io trattavo male i bambini con due figli piccoli che trattavo male i disabili poi quella signora la campionessa olimpionica smetti subito anzi non mi ricordo mi chiami ma dammi una mano scrivimi sotto i messaggi che lui si inventò tutto che non era vero nulla denuncia penale pronta risarcimento pronto canale chiuso subito dopo un giorno gli chiusero il canale perché io chiamai youtube e gli dissi guardate questo è un matto questo è un pazzo nonostante tutto tu gli riapri il canale poi dopo questo personaggio continua va affermato perché usa i morti dice di conoscenza che non ha mai avuto perché avrà parlato due volte con quel ragazzo che non c'è più e avrà parlato tre volte con il nostro amico che qui ho i messaggi mi scriveva mi diceva Giuse quello lì mi fa pena dice Zanga andranno i cidadi a Ranco che cosa faccio Giuse secondo te passiamo male se gli schivo di non dire più cazzate io gli dissi no scrivigli pure diglielo e la faccia finita è tutto agli atti è tutto qua poi un mese fa ho uscito fuori un video ho uscito fuori un video dove io è vero ho contattato una persona accanto a lui perché lui mi aveva bloccato perché se l'era presa male non andavo in live con lui ma non ci vengo a sporcarmi in live con te io io e te siamo di due pianeti completamente diversi contattai questa persona gli chiesi scusa perché io gli dissi io l'audio non l'ho diffuso l'ho mandato solo a una persona è stata un'altra persona a diffondere l'audio ma io mi prendo anche oggi le mie responsabilità per le diffusioni dell'audio non ci sono problemi vai a denunciare fammi la perela per diffusione di audio daremo un po' di soldi agli avvocati non ci sono problemi ma quando poi si arriva tutti i giorni a sporcare una roba su cui noi come canale canale di riferimento non canale di pagliacci dove con dati alla mano dove smettiamo di dire quello mi ha detto quello quello mi ha detto quell'altro con documentazione andiamo ad analizzare nell'ultimo anno e mezzo in maniera oculata tutta la situazione finanziaria e dove ripeto gli arabi arriveranno per noi per noi secondo noi mettiamolo secondo noi secondo me saranno i sauditi FMEG dice i peninsulari per esempio io dico i sauditi ma ad oggi chiunque di voi può scaricare la visura camerale dell'Inter e può constatare che vi hanno detto una miriade di puttanate perché c'è ancora il pegno di OCTRI e c'è ancora il pegno della Glass Trust cosa vuol dire c'è ancora il pegno di OCTRI se scarichi la visura camerale dell'Inter che il prestito non è stato rimborsato perché la prima cosa che accade quando te rimborsi il prestito è che casca il pegno tra l'altro questo non è nemmeno un prestito rimborsabile perché scade a maggio pick bond è rifinanzabile solo in certi casi e questa è la verità e io mi sono rotto i coglioni di vedere parlare dei morti usare i morti per fare quattro visual te l'ho già detto ti faccio una colletta io metto il mio canale a disposizione raccogliamo un po' di soldi ma poi togliti dai coglioni smettila di rompere il cazzo all'Inter smettila perché hai toccato due miei amici morti una volta ho fatto finta di nulla la seconda ho fatto finta di nulla addirittura alla Atisb Ancona Torino Imola Savona Bologna che è un'associazione di ragazzi sulla sedia a rotelle questo pezzo di merda ha avuto il coraggio di far sembrare eh ma potrebbe essere come la Ferragni tra l'altro le donazioni vanno direttamente a loro e ho centinaia di messaggi di persone che mi dicono che hanno dato donazioni di 5 per mille perché lui è sporco lui vuole lui non accetta il fatto di non piacere te sei peggio di quello che fa le frittate te lo dico io te sei molto peggio come ieri fai le bombe a mezzanotte è inutile c'erano il triplo degli utenti su questo canale è inutile che metti bomba di Zanon e poi Zanon ora lo stiamo contattando tutti stiamo unendo le forze perché hai rotto i coglioni vediamo se Zanon ti ha detto davvero che il passaggio di vuote è stato fatto perché io non penso che Zanon sia così matto da dire una cosa che non è successa perché non c'è stato nessun passaggio di vuote e io lo posso dimostrare basta scaricare la visura camerale dell'Inter te non lo puoi dimostrare c'è stato il passaggio vuote te la parola Grand Tower l'hai appresa da noi te non sapevi nemmeno cos'era te non sai nemmeno cos'era un CDA te non sai nulla ti hai solo qualche informazione su cui spegoli quotidianamente e a me non fai paura capito ti abbiamo graziato due volte ti abbiamo riaperto il canale due volte ma se tornassi indietro con il cazzo ti hai riaperto il canale perché te sei dannoso proprio per l'Inter per il nome dell'Inter te sei una persona dannosa e io ho le prove di quello che è Dio provare per credere ciao 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 ciao